Buongiorno, buonasera a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti o bentornati sul canale. Questo è un nuovo episodio della serie di Minecraft Ita. Quest'oggi andremo a utilizzare lo spawner di Sketry che vi ho fatto vedere in uno scorso video. Tra l'altro ragazzi ho trovato una farm da fare con questo spawner, che è spaziale. Un'altra farm di esperienza, quindi perfetto. Anche se dopo aver sconfitto l'Ender Dragon andrò a fare, in qualche episodio più avanti, la farm di Enderman, che diciamo è la farm perfetta per fare l'XP. Ok, quindi mi sono già portato avanti, ho preso tutte le cose che servono, sono queste qua. Un blocco di soul sand, tre slab, qualsiasi, due fence, tre cartelli, quattro chest, due hopper, due water bucket, 32 pezzi di alga che ho preso dalla farm, uno stack di blocchi temporanei, uno stack di terra ho preso io, e poi una pala per la terra in generale. Ok, quindi io direi di togliere queste cose qua che ho qua, possiamo prendere tutto e possiamo iniziare. Ok, prima cosa che faccio con questo piccone qua, dobbiamo liberare l'area di quattro, quindi così. Uno, due, tre, quattro. Ora vedremo di quanto. Quattro, sì, perfetto. Sta un po' laggando il gioco oggi, non so perché. Spero non laghi troppo la registrazione, però cercherò di fare il possibile ragazzi. Ok, dovrebbe essere una cosa del genere, ho sbagliato prima perché ho tolto proprio tutto. Poi dobbiamo essere sicuri che ci siano due blocchi sopra lo spawner e due blocchi sotto, in questo modo. Due blocchi liberi. Ok, allora questo non è necessario, ma io lo faccio. Bisogna far sì che l'altezza dello spawner sia di due, in questo modo qua. Ma non è necessario, io lo faccio così. Dopodiché dobbiamo togliere tutti i blocchi sopra queste, diciamo, quattro isole. Isolette, non so come chiamarle. E far sì che tutta la stanza sia alta due, cioè in teoria tre. Sì, tre, alta tre. Ok ragazzi, dopodiché dobbiamo portare tutta questa stanza al livello di questo blocco qua. Così. Tutta la stanza, quindi diciamo che ho sbagliato pure a rimettere le cose. Di carbone non ne prendo più perché ormai sono pieno, veramente, perché con questo piccone con fortuna ne ho preso veramente troppo. Sto usando questo piccone perché tanto ci metto molto di meno e nel caso posso ripararlo. Devo ancora capire come, ma credo si possa riparare. Poi al massimo lo rifacciamo in qualche modo, con tutti i libri, con tutti i livelli che possiamo fare con questa farm. Questo spawner lo cercavo veramente da tantissimo. Perché è troppo, troppo utile. Sia per le ossa che per le frecce. Intanto spawnano gli scheletri perché non hanno abbastanza torce. Ok, allora dopodiché prendiamo i due secchi d'acqua. Facciamo una fonte infinita d'acqua. Tanto mangiamo perché sono qua, muoio anche di fame. Ok, riempiamo i nostri due water bucket. Ne mettiamo uno qua e uno qua. Ne prendiamo altri due. Qua possiamo anche chiudere. Ne prendiamo altri due e senza morire magari da tutti questi scheletri. Dobbiamo scavare tutti i punti dove non c'è l'acqua. Come vedete, come sto facendo io adesso. Da questo punto, ovvero il centro, andiamo in qua. Facciamo uno, due, tre. Quindi un corridoio così. E andiamo ancora giù di uno. Tanto qua posso anche chiudere con un po' di cobblestone. E devo anche chiudere qua perché diciamo che non è bellissimo. Ok. Ok, però basta. Ragazzi, non voglio giocare adesso. A questo punto rompiamo questi due blocchi e ci mettiamo le due fence. Mettiamo un blocco di terra qui. E rompiamo tutti questi blocchi, diciamo, al limite con l'acqua. Quindi così. Ecco fatto. Dopodiché prendiamo due segnali. Ne mettiamo uno qui e uno qui. Dopodiché dobbiamo fare un tunnel alto 27, ragazzi. Quindi uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, unici, dodici, tredici, torce, quindici, unici, dodici, quattro, quattro, quindici, sedici, sette, sette, otto, gwettiche niente, venti, 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 quattro, venti, quattro, venti, quattro, venti, quattro, venti, vettifer. Ok, ragazzi, metto solo una torcia per farvi vedere. Devo mettere un blocco di acqua qui sopra Togliamo intanto la torcia Me la tengo di qua così vedete E andiamo giù fino al fondo Fino al punto dove c'era il pezzo di terra diciamo Senza morire magari Ecco qua Poi ragazzi andiamo a mettere il kelp lungo tutto questo tunnel Quindi così sarà molto veloce da mettere Fino in cima ragazzi Una volta fatto scendiamo velocemente E rompiamo il kelp Poi al posto della terra qui ci mettiamo la soul sand Ok ragazzi una volta saliti dovete scavare per 3 blocchi davanti a voi Avendo di schiena lo spawner Mettiamo un cartello qui così E ora andiamo giù esattamente di 23 blocchi Ok ragazzi qui dovremo fare diciamo la stanza dove entreranno i mob Quindi mettiamo un hopper qui Poi in questo caso io di qua direttamente ho l'acqua Quindi non andrò di qua Ma farò una specie di cosa così E stessa cosa con altri due hopper che potrei mettere di qui Esattamente così In questo caso chiudiamo in questo modo Mettiamo due slab in questo modo Così da qui potremmo diciamo colpire tutti i mob In questo caso gli scheletri Ok ragazzi ora dovremo tornare all'interno dello spawner in qualche modo Quindi cercherò di trovarlo Eccolo qui trovato ok è un po' più distante Una volta arrivati qua io ovviamente devo togliere tutte le torce E devo mettere una slab sopra lo spawner Quindi in qualche modo Togliamo le torce e mettiamo se riesco Una slab sopra prima Senza magari far spawnare troppi scheletri magari Ecco qui Ok poi qua Togliamo Poi qua chiudo tutto che sennò Arrivano tutti gli scheletri Ok Ci siamo quasi Eccoci qua Chiudiamo tutto per bene Questa sarà l'entrata che dovrò fare ovviamente meglio Ok intanto Mettiamo qualche torcia magari E arriviamo fino a qua dove ci sono già le mie torce Quindi perfetto Come vedete ragazzi Tutti gli scheletri stanno venendo qui Mettiamo un po' di torce che sono qua Spawno tutta la gente del mondo Andiamo qui E ragazzi guardate quanti scheletri ci sono già adesso Non sono diciamo troppi ma è da pochissimo Quella appena diciamo utilizzata E con i soli pugni potete diciamo ucciderli Tutto sta andando qui Lascio tutto qua Perfetto ragazzi abbiamo già preso 5 archi Ma va bene E poi ragazzi basterà sempre tornare qui Mettervi qua in FK E ucciderli tutti Potrete usare qualsiasi autoclicker Ve ne lascio uno qua sotto in descrizione Che vi servirà per stare FK Ma comunque uccidere gli scheletri Ma come vedete ragazzi funziona benissimo Perché in questo poco tempo diciamo Ho fatto già uno stack di frecce e ossa Bene ragazzi io starò un bel po' qui FK Questa far mi servirà tantissimo Sia per la farina d'ossa Sia per le frecce Perché nel prossimo video ragazzi Andremo a combattere Ender Dragon Anche se per le frecce ragazzi Ho appena trovato proprio subito Appena uno di voi mi ha scritto di usare Infinity Sull'arco Ho trovato il libro con Infinity Una cosa pazzesca Non so come Però intanto meglio per noi E inoltre ho aggiunto Aspetto di fuoco 1 Alla spada Che ho appena lanciato va bene E per il resto basta ragazzi Dovrò fare meglio questo punto qua Oren of Camera lo farò Però diciamo non devo fare un video separato Solo per fare questo tipo di cose Quindi dovrò fare meglio questa entrata qui Ma per il resto ragazzi è tutto buonissimo Quindi ragazzi nel prossimo episodio andremo finalmente a provare a sconfiggere Ender Dragon E niente ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Se così lasciate un bel mi piace Commentate con quello che volete vedere nei prossimi video Iscrivetevi e attivate la campanellina Per non perdervi nessuna novità E da sino di tutto Ciao 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 Ciao